Panico, panico in corso in questa camera, vi faccio vedere un po' una panoramica di quello che è il casino mio attuale del perché e cause anche lavorative, non riesco più a fare video ma avrei veramente tante tante cose in ordine, cassette da ascoltare, cassette da passare, un SD nuova della Samsung che devo ancora montare un mixer da riparare, della E-Laudio, molto bello, dove cazzo ha già scritto la marca? anche qua davanti, questo qua, una radiosveglia, devo farci il video, qua c'è un computer che ho riparato qua c'è un altro computer, locandina di qualche cosa, un telefono da sistemare, un pacco da restituire da Amazon, cavi, cavetti, un altro mixer che devo cambiare, il rack ancora abbandonato qua sotto un DVD recorder, due trasmettitori che non si vedono, vediamo di accendere la luce che così si vedono, insomma, troppa, 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 troppa roba e questa è solo la camera, perché poi ci sono ancora tre televisori, le televisore e le cd, insomma, è una situazione assolutamente ingestibile